La Basilicata c'è, partecipa allo sforzo quotidiano per continuare a far grande l'Italia. E' questa la dichiarazione del Presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo alla celebrazione solenne a Montecitorio per i 150 anni dell'Unità d'Italia. La seduta congiunta delle Camere a Montecitorio con il discorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato il momento più solenne e ufficiale dei festeggiamenti del 17 marzo. E' una presenza rispettosa, sentita e doverosa, ha aggiunto De Filippo. E' un esserci senza sé e senza ma, che è presupposto di quella cittadinanza che dà doveri e diritti in questa nazione. Le nostre virtù, ha affermato il Presidente De Filippo nel corso del suo recente intervento in Consiglio regionale, ci impongono di accogliere la sfida della prospettiva federale dello Stato, se questo servirà a chiudere definitivamente una facile geografia degli sprechi e delle inefficienze.